Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi, come quello di ieri, sarà molto breve. Oggi voglio parlarvi della novità riguardante il Team of the Week. Infatti, come tutti ben saprete, a causa del coronavirus tutti i campionati principali sono stati sospesi. FIFA, per ovviare al problema del Team of the Week, si è inventata delle nuove carte, che sono le carte Team of the Week Moment. Queste carte riprendono giocatori Team of the Week di Team of the Week passati degli scorsi FIFA. Infatti, per esempio, questa settimana potremo vedere il Team of the Week numero 28 di FIFA 18 su FIFA 20. Tra le carte presenti, secondo me, ce ne sono solo due degne di nota. La prima è Walker, difensore centrale, che è molto veloce, molto fisico, molto forte in fase difensiva, quindi secondo me sarà un difensore utilizzabile e abbastanza forte. Mentre l'altra è Garrett Bale, attaccante, che per quanto comunque abbia solo due stelle ai piedi debole, è una carta abbastanza forte. Poi a Gallese ci consente di ibridare James, Future Star e i giocatori della Liga, quindi è una carta sicuramente valida. Le restanti carte non mi sembrano niente di che. Comunque, questa settimana abbiamo capito come funzioneranno le settimane successive. Sicuramente questa cosa continuerà e dalla prossima settimana continueranno a riprendere Team of the Week dei FIFA passati. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti dai perbole e al prossimo video.